Ed ora parliamo della visita del Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini che oggi si è recata prima ad Urbino e poi al Museo del Bali. Museo del Bali dove queste sono le immagini che appunto si riferiscono al suo arrivo a Saltara accolto dai sindaci del territorio, dal prefetto, dal presidente della regione Luca Ceriscioli, da Lighiero Omiccioli. Ecco Stefania Giannini che in questi minuti sta per cominciare a parlare proprio all'interno del museo dove c'è per noi collegato Lino Balestra. Buonasera Lino. Allora che punto è? Allora sì buonasera Marco siamo nel Museo del Bali, un'eccellenza di tutto il centro Italia per quanto riguarda l'apprentimento e la digitalizzazione. Dopo sentiremo dalle parole del suo presidente quanto sono avanti in questo ambito. Come detto tu il Ministro dell'Istruzione arriva da Urbino dove nell'aula magna del rettorato ha tenuto un discorso, ha parlato di due tematiche molto importanti. La prima la fuga dei cervelli all'estero quando le nostre eccellenze in ambito di studi, in ambito di ricerca sono costrette ad andare fuori all'estero per trovare lavoro o per proseguire i loro studi. E poi anche dei fondi, insomma un tema sempre caldo quello dei fondi per la scuola e per l'istruzione. È arrivata qui accolta come hai detto dai sindaci del territorio e dalle massime cariche istituzionali e anche militari. Per il saluto di benvenuto ci hanno pensato gli studenti della scuola primaria di secondo grado che hanno intonato prima l'inno di Mameli e poi l'inno alla gioia per dare il benvenuto al Ministro e regalargli questo momento così importante. Noi abbiamo raccolto una sua impressione subito appena arrivata qui e prego alla regia di mandare il contributo e l'intervista che abbiamo realizzato. Il percorso intrapreso da questo governo sul fronte della scuola è un fronte di innovazione e di percorso che mira a una modernizzazione di alcuni standard che sono importantissimi per il futuro dei nostri ragazzi. È anche un percorso di innovazione e direi che il paradigma più chiaro è il Piano Nazionale per la Scuola Digitale che intende adeguare anche il modello educativo a una società che cambia molto rapidamente di cui la scuola non può che essere motore trainante e non vagone trainato. Però è anche la volontà di mettere in evidenza quei principi che questi ragazzi oggi hanno con molta semplicità e chiarezza enunciato cioè una cultura della legalità, della responsabilità, della partecipazione attiva per loro da cittadini un domani adulti, liberi e dotati di un pensiero critico in grado di far capire la realtà e di interpretarla al meglio. Quindi penso che la buona scuola per noi significa soprattutto questo e ci stiamo impegnando in questa direzione. Qui ci troviamo in un sito che da tempo ha intrapreso questa strada, affascina tantissimo tutti quelli che lo vengono a visitare. Questo è un esempio da portare anche in Europa forse. Le marche in generale hanno una tradizione di buone pratiche. Lo stanno dimostrando anche in questi ultimi tempi perché parlo del Piano Nazionale Scuola Digitale per esempio sono tra le regioni che hanno risposto più rapidamente e con maggiore attivismo ai bandi che noi stiamo facendo sia per creare laboratori, a telecreativi, insomma al modo che ogni scuola adegui anche gli ambienti di apprendimento e produca un suo modello originale. Questa zona in particolare, la zona di Pesaro, è tra le più attive del paese. Quindi credo che possiamo partire da qui per esportare questa pratica in Italia e in Europa. Ecco, speriamo che questo esempio così virtuoso che alberga nella nostra provincia sia un asset da portare anche all'estero e naturalmente il Ministro si è fatto carico anche di questo. Il Museo del Bali non è stato scelto a caso da chi ha seguito la visita nelle marche del Ministro dell'Istruzione, Ceriscioli, il Presidente della Regione, è stato con lei fino a Urbino e poi è venuto anche qui perché questo è un sito virtuoso che da tempo porta avanti questo discorso sulla digitalizzazione anche con un progetto pilota come abbiamo sentito da Alighiero Omiccioli, il suo Presidente, poco prima dell'arrivo del Ministro. Sentiamo. Presidente, il Ministro di Istruzione qui al Museo del Bali ha significato l'importanza per tutto il territorio locale ma anche del centro Italia di questo presidio così importante per l'istruzione. Sì, penso che oggi sia un attestato di riconoscimento massimo che possa capitare a un museo come il nostro. Abbiamo la più alta istituzione nel settore italiana per cui noi siamo solamente felici di questa importante visita. Vedo che comunque c'è anche una grossa risposta del territorio da parte degli amministratori pubblici e non solo di tante persone del mondo della scuola per cui benvenuto al Ministro e l'attendiamo ormai questione di pochi minuti. Allora, la digitalizzazione è il tema di questo workshop. Voi siete avanti perché già siete a un passo da aver portato a termine un importante processo in questo senso. Sì, ormai noi stiamo, come dire, cavalcando i tempi. La scienza è un qualche cosa che si evolve continuamente. Noi stiamo affrontando già da tempo il tema della digitalizzazione. Chiedo scusa, lo affronteremo anche in maniera molto più corposa nei prossimi mesi sì da essere sempre all'avanguardia e proporci sempre innovativi anche nei confronti del mondo scolastico. Ecco, avete anche dei numeri da record, insomma, anno con anno siete sempre in incremento. L'ultimo dato è veramente importante per voi? Abbiamo investito molto, molto su un nuovo modo di comunicare che ci sta portando i suoi frutti. il mese d'aprile che sta per iniziare vede già un più 27% di iscrizioni appunto al viso del museo da parte delle scuole. Per cui siamo oltre le 6.000 unità. Per cui veramente diciamo solo grazie e comunque speriamo di continuare con questo premio. Bene, adesso mentre noi andiamo in onda il ministro sta tenendo il suo intervento dopo il saluto anche del prefetto Luigi Pizzi. Per darvi un dato e poi restituisco la linea allo studio, l'impegno economico del governo per appunto la scuola digitale e mettere al passo dei tempi docenti e studenti è importante. Si parla di un miliardo di euro naturalmente solo per il settore informatico. e dal museo del Bali e tutto restituisco la linea allo studio.